Occhio in fronte. Fiaba d'Abruzzo. C'erano due frati che andavano in questua. Per le montagne gli si fece scuro. Da una caverna usciva un po' di luce. Padrone di casa, chiamarono. Ci date ricetto per stanotte? Entrate, disse una voce e fece rimbombare la montagna. I frati, entrarono. Vicino al fuoco c'era un gigante con un occhio in fronte che disse. Favorite, qua non ci manca niente. Sposto un macigno che non sarebbero bastate cento persone e chiuse la porta alle spalle dei frati, tutti tremanti. Io ho cento pecore, disse occhio in fronte. Ma l'anno è lungo e devo risparmiare. Dunque, chi mi devo mangiare per primo? Fratino o fratone? Tirate a sorte. I due frati buttarono le dita per tirare a sorte e toccò a fratone. Occhio in fronte lo infilò allo spiedo e lo mise a rosolare sulla brace e girando lo spiedo canterellava. Stasera fratò, domani frati. Stasera fratò, domani frati. Fratino si tormentava tra il dolore per la fine del compagno e il pensiero di come scampare lui alla stessa sorte. Quando fu cotto fratone, occhio in fronte, cominciò a mangiarlo e ne diede una coscia anche a fratino che l'assaggiasse anche lui. Fratino fece finta di mangiare ma si buttava la carne dietro le spalle. Spolpate bene le ossa di fratone. Occhio in fronte si buttò sulla paglia. Fratino si ranicchiò accanto al fuoco e fece finta di dormire anche lui. Quando sentì occhio in fronte grufolare come un maiale, preso lo spiedo, ne arroventò la punta finché non divenne rossa e ziii gliela ficcò nell'unico occhio. Il gigante, accecato, balzò in piedi urlando e muoveva le mani dappertutto per acchiappare fratino. Ma fratino si ficcò in mezzo alle cento pecore. Occhio in fronte cominciò a tastare tutte le pecore a una a una. Ma fratino si spostava in mezzo al gregge e occhio in fronte non lo acchiappava mai. Allora disse, ci penso io quando sarà giorno. Fratino allora senza far rumore prese il montone, lo scorticò e la pelle del montone se la mise addosso. Appena si fece giorno, occhio in fronte, levò il macigno dalla bocca della caverna e si mise piantato con una gamba di qua e una di là per tastare tutto quel che usciva e lasciar passare le pecore, ma non fratino. Chiamò per primo il montone e venne avanti fratino camminando sulle mani e sui piedi, dondolando il campanaccio. Occhio in fronte lo accarezzò sul dorso e disse, tu vai pure. E passò a tastare le pecore che uscivano una ad una. Così fratino fu libero e corse via, contento e beato. Ma uscite che furono tutte le pecore, occhio in fronte si mise a frugare per la caverna e gli capitò sotto le mani il montone scuoiato. Capì che quello che aveva creduto il montone era fratino camuffato e uscì dalla caverna per inseguirlo. Andò avanti alla cieca annusando l'aria e quando sentì d'essergli vicino gridò, fratino me l'hai fatta, sei più in gamba di me, tieni quest'anello come segno che mai vinto. Egli buttò un anello, fratino lo raccolse e se lo mise al dito, ma era un anello fatato. Una volta che lebbe al dito, fratino cercava di scappare via da occhio in fronte e invece scappava avvicinandoglisi. Più cercava di scappare, più gli veniva vicino. Cercò di togliersi l'anello dal dito, ma l'anello non usciva più. Ormai era quasi nelle mani di occhio in fronte. Allora si tagliò il dito con l'anello e glielo scaraventò sul muso e sull'istante fu libero e potei scappare. Occhio in fronte, aperse la bocca e inghiottì il dito di fratino. Almeno tu ho assaggiato, disse. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie!